Ciao e benvenuti in questo video. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Corrado Rebari e sono un cloud architect di Oracle, specialista in analytics e data science. Nel video di oggi andremo a scoprire come utilizzare l'autonomous database come piattaforma di machine learning. In particolare addestreremo un modello utilizzando un dataset di training e lo useremo per fare inferenze sui dati di test. L'unico requisito per seguire questo tutorial è quello di avere un account Oracle Cloud. Per chi non ne avesse uno, vi invito a cliccare sul link in sovraimpressione per accedere alla versione trial always free. Con l'account che riceverete, oltre a crediti a scadenza, potrete creare fino a due istanze di autonomous database, di massimo una Oracle CPU ciascuna, che potrete utilizzare liberamente senza alcun costo. Prima di tutto entriamo all'interno dell'interfaccia di organizzazione di OCI e creiamo un autonomous database. Daremo un display name, un identificativo unico del database, sceglieremo la tipologia Data Warehouse, lasceremo tutto il resto così, com'è, e imposteremo la password di amministrazione. E al termine, semplicemente, se la licenza è inclusa o meno. A questo punto, in pochi minuti, vi verrà messo a disposizione un database tipo autonomous con una OCPO, e quindi quando vedrete verde potrete procedere con la service console, dove troverete tutta una serie di strumenti di amministrazione. In primis, uno strumento per creare l'utente machine learning. Ne creiamo uno quindi ad hoc, che chiamiamo ML user, gli impostiamo anche l'indirizzo di mail, dove eventualmente potrà essere inviata la password, oppure in questo caso la impostiamo direttamente da console. E quindi creiamo questo utente di machine learning. A questo punto, passando invece agli strumenti di development, in database action, come amministratori daremo la possibilità all'utente di fare ulteriori operazioni. Quindi, entrando come admin, l'amministratore potrà abilitare questo stesso servizio che stiamo vedendo anche all'utente machine learning. Quindi, innanzitutto, andrà sui database user, selezionerà l'utente machine learning, e gli darà la possibilità di lavorare in modalità REST, e quindi avrà a disposizione anch'esso questo strumento che ha delle funzionalità che ci ridanno più avanti. A questo punto, uscendo come utente admin, e rientrando come utente ML user, che sarà quindi abilitato, possiamo procedere, per esempio, al caricamento dei dataset, sia di training che di test. Questo è possibile fare attraverso il data load, dove possiamo caricare il dato da un local file, oppure eventualmente da un cloud storage, ad un altro database. In questo caso, selezioniamo due file CSV locali e li carichiamo all'interno di questa console, dove poi andiamo a ispezionare la tipologia di dati che abbiamo trovato e quali sarà il nome della colonna e la tipologia di colonna che mi verrà creata all'interno del database come tabella finale a cui atterrerà il dataset. A questo punto procediamo con il caricamento batch di questi due dataset, che si sprecherà in pochi secondi, e a questo punto l'utente machine learning ha a disposizione i suoi dati. Quindi, passando adesso all'interfaccia invece notebook che noi mettiamo a disposizione, l'utente machine learning potrà a questo punto entrare in una piattaforma di sviluppo machine learning basata su OML for Python e PLSQL. Qui vedete, possiamo selezionare un progetto, crearne uno, o attingere a dei template di esempio che potrete utilizzare per procedere rapidamente su una tipologia di algoritmo che volete creare e su cui volete lavorare. Con le AutoML, invece, experiment, andiamo a creare un modello di machine learning in modalità completamente autonoma. Quindi impostando semplicemente il nome del modello che andremo a creare, quale sarà la tabella su cui deve essere fatto il training, in questo caso MLE user trova claims che è stata appena caricata con l'altra utility. Quindi andremo a stabilire qual è il campo target che dobbiamo andare a prevedere, in questo caso fraud found, e la tipologia di predizioni, quindi in questo caso classification. Sarà una classificazione di tipo binario. E poi dovremo selezionare un campo in particolare che rappresenta la chiave di ogni singolo record del dataset. In questo caso andiamo alla ricerca di policy number che rappresenta un identificativo univoco per questo dataset. A questo punto andiamo a ispezionare altri parametri che possiamo impostare, quindi il massimo numero di top mode che vogliamo estrarre, in quanto tempo al massimo, la tipologia di metrica che possiamo in questo caso scegliere come di tipo ROC-AUC, che va bene per questo dataset che è di tipo binario, come target. Qui abbiamo la lista degli algoritmi che possiamo utilizzare nella ricerca del modello migliore e qui sotto abbiamo riportato il campo innanzitutto che abbiamo identificato come target, tutti gli altri campi che eventualmente possiamo selezionare o deselezionare, e questo è il campo invece policy number. Come vedete ci sono riportate delle statistiche, quindi minimo e massimo, valori distinti, media e varianza, che vi possono aiutare a capire un po' la tipologia dei dati contenuti nel dataset. A questo punto partiamo con il running. Abbiamo scelto una tipologia di tipo faster per arrivare più rapidamente possibile all'algoritmo e qui vedete che verranno mostrate le progressioni di operazioni che stiamo attuando per cercare il miglior modello. Nel frattempo la curva ROCA OC vi mostrerà i valori risultati e quindi in pochi minuti avremo a disposizione, in questo caso, dei modelli. In particolare il top sarà il neural network, che sarà classificato come ROCA OC 08227. A questo punto possiamo creare un notebook a partire da questo modello, che poi andremo a vedere più tardi, che contiene esattamente tutti i parametri che hanno portato alla costruzione di questo stesso modello, che abbiamo a disposizione al catalogo. Un'altra operazione che possiamo fare è deployare questo modello, quindi abilitarlo attraverso un URI come un servizio REST, che sarà quindi messo a disposizione di chiunque lo voglia utilizzare, indipendentemente dal database autonomo su cui sta aggirando. Quindi se andiamo nel model catalog, troveremo inizio tutti i modelli che sono stati generati dall'auto ML, ma soprattutto il modello che abbiamo appena rilasciato, e quindi NNFRODETEC. Qui possiamo vedere quali sono i parametri da dare input, la tipologia e poi il target che andremo a classificare. E qui invece abbiamo le informazioni relative a come costruire uno scheleton utilizzando le OpenAPI 3.0, che potremo quindi copiare e dare in pasto a un particolare tool per ottenere un wrapper per effettuare poi la chiamata effettiva. Adesso andiamo a vedere invece il modello che è stato creato e il notebook che è stato generato. In questo caso lo andiamo ad eseguire per vedere di riprodurre gli stessi step che hanno portato alla creazione di quel modello di machine learning. Qui innanzitutto abbiamo caricato il dataset, qui vedete quali sono i dati di training e i campi che verranno utilizzati, e qui andiamo a settare gli stessi parametri che hanno portato a quel tipo di risultato in termini di metrica ROCAP-C. Questo ci permette quindi di avere lo stesso modello a disposizione per effettuare scoring, magari in questo caso sui dati di training che abbiamo utilizzato, e quindi andare a vedere la qualità della metrica utilizzando i dati di training. Se invece andiamo a scrivere un'ulteriore cella nella quale andiamo a selezionare una volta la tabella claim 0, che è una tabella di test, quindi possiamo creare a questo punto un data frame su cui effettuare invece la predizione. Quindi qui abbiamo già creato il dataset in modalità pandas, e quindi a questo punto possiamo applicare il modello a questo dataset e conoscere qual è il risultato che abbiamo ottenuto. Al termine di questa operazione, quindi, possiamo vedere quali sono i dati che sono stati utilizzati e qual è stata la prediction che è stata fatta relativamente a questo nuovo dataset. Quindi di fatto abbiamo utilizzato il modello all'interno di un notebook per poter fare predizioni e utilizzarlo in modalità notebook. La precedente modalità era invece una modalità di tipo REST che abbiamo abilitato e che quindi ci permette di utilizzare questo modello anche all'esterno. Bene, grazie per la partecipazione a questo video, spero sia stato interessante e spero di rivedervi alle prossime pillole che andremo a preparare. Grazie.